ed eccoci qui di nuovo davanti al nostro primo semplice programma allora andiamo subito appunto al sodo come vedete un programma non è nient'altro che una serie di righe di testo alla fine righe di testo che si suddividono sostanzialmente in istruzioni che vogliamo che il nostro computer esegua e alcune altre direttive che creano una struttura creano un contesto in cui le nostre istruzioni possono essere eseguite in questo caso per esempio vediamo che ci sono alcune istruzioni alcune direttive che servono a indicare una cosa che si chiama un namespace questo namespace what is programming una direttiva che si chiama using di cui vi parlerò in seguito un'altra istruzione che vuole creare una classe un'altra istruzione qui in linea 7 che sta creando una funzione e finalmente un'istruzione eseguibile questa console write line hello world che vuole andare a scrivere sulla console la sequenza di caratteri hello world allora tutto questo può sembrare abbastanza assurdo perché semplicemente per chiedere di stampare una frase servono tutte queste linee che voi vedete ma il discorso è che ovviamente i nostri programmi spesso vorranno fare cose ben più complicate che stampare una frasetta sulla console e quindi il linguaggio ha bisogno di tutta una struttura che poi ci permetterà di fare cose molto più complesse e interessanti altra cosa che dovete capire immediatamente all'inizio del vostro percorso nel mondo della programmazione è che è importante che vi abituate a un meccanismo di apprendimento graduale con questo intendo che ci sono alcune cose che è importante che capiate ora e altre cose che invece possono aspettare se voi tentate di assolutamente di comprendere al 100% tutto dall'inizio finirete probabilmente più frustrati di quanto sia necessario allora vediamo di capire un pochettino meglio la struttura di questo programma come ho detto le parti che riguardano il namespace e la creazione della classe fanno parte di quel reame che è meglio lasciar stare per ora fanno parte di quelle nozioni avanzate che per cui è meglio aspettare un pochettino quello che vedete qui invece da linea 7 a linea 10 è una cosa che si chiama una funzione la funzione è un concetto cuore di qualsiasi linguaggio di programmazione e che cos'è sostanzialmente? è un contenitore per istruzioni eseguibili noi non vogliamo avere le nostre istruzioni che navighino nel nulla o comunque fuori da qualsiasi contenitore perché? perché sennò non sarebbe chiaro quando vogliamo andare a eseguire quelle istruzioni e soprattutto perché se volessimo eseguirle più volte dovremmo riscriverle più volte mentre creando una funzione che contiene le nostre istruzioni quando vogliamo eseguire queste istruzioni chiameremo la funzione quindi chiederemo l'esecuzione di questa funzione tutte le volte che ci serve semplicemente dovremmo richiamare la funzione senza ripeterci allora cerchiamo di capire però un po' meglio che cos'è una funzione una funzione non è niente di molto differente da quello che conosciamo in matematica cioè è un'entità che riceve un input e ritorna un output e fa alcune operazioni durante la sua esecuzione in questo caso vediamo di capire meglio la sintassi il nome della funzione è importante perché sarà il nome con cui noi chiederemo che venga eseguito la funzione il nome che invocheremo per provocare l'esecuzione della funzione in questo caso il nome è main e questo è un nome particolare un nome magico per il linguaggio C Sharp perché? perché rappresenta la funzione che viene eseguita immediatamente quando verrà lanciato il nostro programma quando noi lanceremo il nostro programma l'ambiente di esecuzione andrà a ricercare questa funzione che si chiama main e farà partire il programma andando ad eseguire le istruzioni che ci sono nella nostra funzione e questo è un caso particolare quando poi creeremo altre funzioni saremo liberi di scegliere il nome si dice l'identificativo della funzione che più ci aggrada e tipicamente vorremmo scegliere dei nomi che siano significativi che facciano capire lo scopo per cui è stata creata quella funzione questo che vedete fra parentesi tonde è l'input che verrà dato alla funzione in questo caso l'input è una variabile che si chiamerà args e che è di tipo array di stringhe ora di nuovo, oddio, cosa sono tutti questi nuovi termini? calma e sangue freddo andremo a spiegare queste cose una a una con calma questa scritta void invece prima del nome rappresenta che cosa viene ritornato da questa funzione e il fatto che ci sia scritto void sta a indicare che questa funzione al suo terminare non ritornerà un bel nulla la keyword, la parola static ha di nuovo un significato che è meglio lasciare per le prossime lezioni sono importanti queste due graffe che vedete qui queste due graffe che vedete qui aprono e chiudono un blocco di codice e in sostanza fanno capire dove comincia la nostra funzione e dove finisce la nostra funzione infine qui vedete l'istruzione che finalmente serve per andare a fare quello che vogliamo e cioè per andare a scrivere sulla console la sequenza di caratteri detta anche stringa in gergo di programmazione la stringa hello world sulla console quindi per il momento vedete questa cosa con questo strano punto in mezzo semplicemente come una richiesta per andare a stampare sulla console hello world andiamo a vederlo in esecuzione per andare a vedere in esecuzione possiamo lanciare questo programma direttamente dall'ambiente diviso da studio code automaticamente il programma viene tradotto in linguaggio macchina poi mandato in esecuzione con dettagli di cui parleremo un pochettino più avanti però vedete adesso il programma viene lanciato e qui vediamo in tutta la sua gloria la scritta che volevamo fosse stampata sulla console perfetto per adesso tutto meraviglioso però dovete capire che il linguaggio C-Sharp come tutti gli altri linguaggi di programmazione ha una sua sintassi, tutta una serie di regole che vanno rispettate esattamente alla letter il vantaggio di un linguaggio di programmazione rispetto a un linguaggio naturale è che l'insieme delle parole che può usare un linguaggio di programmazione che vengono dette le keyword del linguaggio di programmazione le keyword qui chi sono? sono using, namespace, class, static, void sono appunto un numero di parole che comprendono il vocabolario del linguaggio C-Sharp sono di gran lunga inferiori a quelle di qualsiasi linguaggio naturale e quindi da questo punto di vista un linguaggio di programmazione è mostruosamente più facile di un linguaggio naturale da apprendere la piccola fregatura è che mentre nel linguaggio naturale se voi fate un piccolo errore una persona che conosce quel linguaggio vi capirà lo stesso nel 99% dei casi in programmazione non è così in programmazione le keyword devono essere esattamente così la sintassi, la struttura del linguaggio deve essere esattamente così un piccolo cambiamento significa un errore che vi viene segnalato perché il sistema non capirà che cosa voi intendete per esempio se io magari perché sono italiano qui non mi ricordo che la keyword è class my class vedete che già il mio editor mi fa capire che c'è qualcosa che non va perché questi editori di testo progrediti già stanno analizzando quello che io sto scrivendo per capire se rispetto alle lego e del linguaggio però se io a questo punto provo a salvare il mio file e poi a lanciarlo evidentemente andrò incontro a tutta una serie di problemi e come vedete la risposta che voi avrete sono semplicemente una serie di errori che vi verranno segnalati dicendo non si capisce che cosa mi hai detto qui io mi aspettavo una cosa ho trovato un'altra questo tipo di errori che si chiamano errori di compilazione hanno dei messaggi che possono essere più o meno chiari e su cui passerete gran parte del vostro tempo perché inevitabilmente farete errori quindi piano piano comunque vi ci familiarizzerete in genere è difficile che ti venga detto esattamente cosa è sbagliato cioè non aspettatevi dei messaggi del tipo ah hai scritto classe e invece dovevi scrivere classe ma verrà segnalato che c'è qualcosa che il sistema non capisce intorno a questa linea e voi andate a vedere e dite ok che fessacchiotto qui dovevo scrivere così un altro punto importante è quello che riguarda l'uso delle maiuscole e delle minuscole che cosa intendo con questo? intendo che non tutti i linguaggi sono così ma C sharp è un linguaggio case sensitive case sensitive vuol dire che un altro punto di frustrazione è quello che maiuscole e minuscole sono completamente diverse per C sharp per cui questa funzione che vedete adesso main minuscola non è manco parente della funzione main con M maiuscola che è necessaria per far partire il nostro programma e quindi adesso ancora adesso questo programma non è scritto in maniera corretta e quindi quando io provo a lanciarlo di nuovo prenderò una facciata e vedete il messaggio che ottengo questa volta è abbastanza chiaro mi viene detto guarda che il programma non ha la funzione statica main che io mi aspetto e in questo caso mi ha dato fortuna il messaggio è semplice e non sarà sempre così adesso volevo approfittare per introdurre un'altra idea fondamentale oltre a quella di una funzione ed è un'idea complementare e quindi ci aiuta meglio anche a capire le funzioni e il concetto probabilmente più fondamentale è quello di una variabile che cos'è una variabile? beh alla fine i nostri programmi vengono creati per manipolare per gestire dei dati e quindi dobbiamo avere modo di poter ospitare questi dati all'interno del nostro programma e quindi dobbiamo avere modo di poter ospitare questi dati all'interno del nostro programma mettiamo che io voglia cambiare questo programma in modo che non solo mi dica hello world ma sia in grado di salutarmi con il mio nome Riccardo allora come possiamo fare? potrei andare a scrivere direttamente qui nella stringa che sto stampando certo perché no? potrei dire Riccardo hello world ma mettiamo che io debba fare un lavoro un pochettino più complesso su questo nome magari poi fra un po' potremmo andarlo a leggere dall'utente potremmo andarlo a richiedere dall'utente in modo da poter salutare qualsiasi persona quindi iniziamo a creare uno scenario per poter fare questo quindi noi vogliamo andare a creare una cosa che sarà una variabile di tipo stringa e che conterà per il momento il nome Riccardo quindi andremo a scrivere qualcosa del tipo string name poi un segno uguale e infine la stringa Riccardo allora qui è poi seguito tutto da un punto e virgola allora qui c'è già un bel insieme di cose da dire allora che cos'è una variabile? una variabile la potete immaginare come una scatoletta come un contenitore che contiene dei dati e questo contenitore per essere distinto da altri contenitori avrà bisogno di un'etichetta avrà bisogno di una scritta che sarà su questa nostra scatoletta che ci permetta di poterla localizzare ogni volta che ci interessa l'etichetta, la scritta che sta sulla scatoletta che contiene i nostri dati è questo il suo identificativo nel nostro caso l'identificativo è name perché name è perché l'etichetta che noi mettiamo su una variabile deve esprimere lo scopo di quella variabile che cosa ci vogliamo fare, che cosa c'è dentro questa scatoletta e noi chiamandola name stiamo rendendo in maniera molto chiara il fatto che questa scatoletta contiene il nome di qualcuno in particolare il nome dell'utente se volessimo essere ancora più chiari potremmo magari chiamarla username notate come ho scritto la parola username questo è un dettaglio però vale la pena di dirlo subito C sharp usa una convenzione per quanto riguarda l'uso delle maiuscole e minuscole allora come potete vedere tutte le keyword sono minuscole quindi c'è poca storia qui per quanto riguarda i nomi che noi scegliamo per le nostre variabili la convenzione è far cominciare i nomi delle variabili con la minuscola mantenere la minuscola e usare la maiuscola solo se abbiamo una parola che è composta da più sottoparole come in questo caso user name e questa convenzione è così diffusa che merita persino un nome e quello che vedete, questo tipo di convenzione si chiama camel case il case a cammello vi lascio immaginare perché perché alla fine esisteranno delle gobbe nelle vostre variabili capito il senso del nome di una variabile possiamo vedere che a questa variabile viene assegnato un valore e il valore in questo caso è la sequenza di caratteri Riccardo qui c'è ancora da capire che una sequenza di caratteri espressa in maniera diretta nel nostro programma va sempre racchiusa fra doppi apici vedete? doppi apici, Riccardo, doppi apici questo indica che si tratta di una sequenza di caratteri che è letteralmente composta da queste lettere perché, lo sottolineo tanto perché questo è un altro punto che vedo manda in confusione alcuni principianti assoluti il punto è che se io non metto i doppi apici il mio linguaggio di programmazione penserà che questo nome Riccardo sia il nome di un'altra variabile esattamente come user name un'altra variabile che io ho definito altrove ma non trovando poi questa variabile Riccardo ovviamente si lamenterà con me e infatti vedete che il messaggio di errore è il nome Riccardo non esiste nel contesto corrente quello che mi sta dicendo veramente è io sto cercando una variabile che si chiama Riccardo ma non riesco a trovarla da nessuna parte perché? perché io qui non volevo riferirmi a un'altra variabile volevo riferirmi semplicemente alla sequenza di caratteri che compongono il mio nome notate che qui becco ancora una strana reazione da parte del mio editor adorabile Visual Studio Code questo che vedete in giallo in realtà è un warning warning vuol dire che il compilatore ha notato il compilatore appunto è lo strumento che si occupa di tradurre quello che sto scrivendo poi in linguaggio macchina ha notato che questa variabile è stata creata non c'è niente di male di per sé in lei ma poi non viene usata infatti vedete il valore di username è assegnato ma non è mai usato e quindi è un po' perplesso perché non capisce perché l'ho fatto e mi sta segnalando questa cosa come una cosa insolita ma che di per sé non viola le regole del mio linguaggio ovviamente questa variabile la utilizzeremo in seguito è solo che lui giustamente è un po' ansioso rispetto a queste cose e il fatto che ci sia scritto questa keyword string davanti alla variabile è un altro punto fondamentale questo indica il fatto che in C-Sharp quando io creo una variabile quando io creo una di queste scatolette che conterranno i dati non solo devo dire come si chiama questa scatoletta non solo devo etichettare la scatoletta ma devo anche specificare che tipo di dato contiene il tipo è fondamentale per un linguaggio come C-Sharp in effetti definendo la scatoletta username di tipo stringa con questo sto indicando che questa scatoletta conterrà solamente delle stringhe e niente altro perché esistono altri tipi di variabile esistono i numeri esistono le booleane che sono true e false eccetera eccetera ora a voi potrà sembrare limitativo il fatto che una scatoletta possa contenere solo un tipo di dato diciamo perché sarebbe più comodo se li potesse contenere tutti ma qui dovete iniziare a capire che il problema maggiore che affrontiamo con la programmazione è la complessità quando scriviamo del software reale questo software sarà estremamente complesso sarà composto da migliaia, centinaia di migliaia a volte milioni di righe di codice scritte da generazioni di programmatori quindi il rigore al crescere della complessità dei nostri programmi diventa un fattore assolutamente fondamentale e il fatto che questa scatoletta possa contenere solo stringhe mi garantisce che io non ci troverò altro che stringhe al suo interno quindi mi eviterà sorprese nel senso di sorprese negative se ancora non riuscite ad afferrare del tutto il senso di quello che sto dicendo non vi preoccupate come vi ho detto alcune cose è fondamentale capirle in questo momento alcune cose si chiariranno mal mano che acquisite un pochettino più di esperienza quindi come vi dicevo sarà possibile per esempio assegnare notate come il simbolo di assegnazione sia l'uguale anche questa è una cosa che vi può lasciare leggermente confusi perché dire username uguale Riccardo non sto dicendo che sto stabilendo un'equazione sto stabilendo un'uguaglianza e sto affermando che questa cosa sinistra è uguale a questa cosa destra in realtà l'uguale in C sharp non è il simbolo di uguaglianza ma il simbolo di assegnazione cioè vuol dire che sto assegnando alla cosa che sta a sinistra il valore che si trova alla sua destra quindi in un certo senso forse sarebbe più intuitivo una sintassi di questo tipo indicando che il valore va a finire nella scatoletta username ma di fatto tradizionalmente si usa il singolo uguale e una volta capito questo possiamo capire che questa scatoletta si chiama variabile perché il contenuto può variare rispettando però le regole del tipo e quindi se io voglio posso tranquillamente cambiare il nome che è contenuto all'interno di questa variabile vedete non c'è nessun problema quello che io però non posso fare è tentare di inserire in questa variabile un valore che però non rispetta il tipo stringa per esempio il numero il numero 1 e in questo caso vedete che immediatamente mi viene segnalato il problema e mi viene detto che in sostanza non posso convertire non c'è conversione diretta fra intero e stringa perché in sostanza siccome questa variabile accetta solo stringa vorrebbe avere stringa o qualcosa che sia immediatamente convertibile a una stringa ma il numero 1 non lo è come vedete io potrei tentare di usare un altro tipo che si chiama booleana che ha i valori true e false vero o falso che è una variabile classica e fondamentale per tanti linguaggi di programmazione e di nuovo stesso problema questa è una booleana non la posso mettere all'interno di una variabile di tipo stringa andrei a eliminare questo codice altro modo in cui io posso disabilitare codice senza eliminarlo del tutto è fare questo che è inserire un commento questa doppia slash è semplicemente un indicatore che sta dicendo questa riga si è presente ma ignorala quando andrai a tradurre questo programma in codice eseguibile è utile come vedete quando io non sono sicuro se voglio eliminare un pezzo di codice oppure no oppure ancora più tipicamente quando io voglio mettere una nota qui che spieghi quello che sto facendo e quindi nel mio linguaggio preferito naturale, italiano, inglese, quello che è dirò questa parte del codice fa questo e quest'altro per quello si chiamano commenti sono sostanzialmente scritte che servono solamente a noi programmatori e vengono ignorate dal sistema comunque detto questo se io volessi utilizzare appunto questa variabile username all'interno del mio programma così magari poi il compilatore la smette di rompermi le scatole dicendomi che non capisce perché sta lì vogliamo andarla a stampare insieme a Hello World come possiamo fare? beh, potremmo introdurre il concetto di concatenazione fra stringhe come vedete qui io sto usando il simbolo più e sto dicendo sai cosa? io voglio stampare Hello World con uno spazio alla fine più e poi la stringa username evidentemente se questo funziona implica che il più qui non vuol dire somma ma vuol dire concatenazione fra stringhe quindi quello che io mi aspetto è che adesso il mio programmino quando viene lanciato stampi Hello World Riccardo andiamo a vedere se è vero è infatti esattamente quello che succede ora questa è una cosa iper semplice veramente banale però vi dico se voi avete un pochettino il pallino della programmazione già questa cosettina così stupida così banale di poter fare in modo che il vostro computer stampi esattamente quello che volete voi dovrebbe darvi una sorta di soddisfazione dove se trovarlo è interessante dire questo sì è semplice però questo potrebbe essere l'inizio di un nuovo mondo di un nuovo modo che io posso avere per interagire con i computer in cui finalmente io sono un attore principale in cui finalmente io sono attivo e non sono semplicemente un utente che riceve quello che non può quello che non può cambiare ora per dare un'ultima verniciata a questo a questo programma sarebbe carino se magari mi chiedesse il mio nome poi mi salutasse con il mio nome a questo punto sarei già in una situazione in cui io posso dare input al mio programma posso farmi rispondere e questo dicevo apre le porte a una serie di nuove cose interessanti che io potrei fare quindi come potrei fare a fare in modo che questo nome non sia cablato qui dentro scritto qui dentro ma sia ricevuto in maniera dinamica dal mio programmino beh come qui c'è scritto console write line in realtà esiste un'altra espressione che guarda caso si chiama console read line che possiamo andare a utilizzare in questo in questo caso in questo caso io cosa sto dicendo notate il punto di virgola finale scusate me l'ho dimenticato di dirlo di nuovo come fa il mio linguaggio come fa C Sharp a capire quando un'istruzione è terminata non è come potreste pensare il fatto che si vada a capo tant'è vero che se io volessi potrei andare a scrivere questa istruzione con la formatazione che più mi aggrada posso andare a capo quasi ovunque non proprio ovunque però posso andare a capo qui potrei andare addirittura a capo qui prima delle parentesi tonde prima del punto e virgola una cosa assolutamente da evitare perché come potete capire non si capisce una cippa per come è formattata questa roba in questo momento quindi non è la formatazione che decide dove finisce un'istruzione ma è il punto e virgola è per questo che è fondamentale ricordarselo al termine di ogni istruzione e per quanto riguarda la formattazione tipicamente si sceglie quella che rispetta le convenzioni ormai stabilite da tutti i programmatori e che tipicamente è una convenzione che facilita la lettura del codice allora a questo punto la prima cosa che succederà quando parti dal mio programma è che il programma si metterà in ascolto andrà a leggere la prima riga che io scriverò sulla console e assegnerà questo valore nella scatoletta nella variabile username però quando parte il mio programma non c'è niente che dica questo quindi forse sarebbe un pochettino più chiaro se io alla partenza del programma andassi a scrivere che sto richiedendo il nome dell'utente e quindi si potrei usare write line ma facendo così inserirei la richiesta e poi un a capo allora in questo caso forse è meglio usare write che lascerà il cursore esattamente dopo il testo stampato vedrete cosa sto dicendo probabilmente in maniera migliore quando lancio il programma e qui possiamo scrivere qualcosa tipo please write your name oppure ancora un po' più informale what is your name qual è il tuo nome ora siamo pronti per lanciare finalmente il nostro programmino e vederlo funzionare questo però è anche un buon momento per dire non vi scandalizzate se fate parecchi errori anche facendo cose molto semplici come questo è perfettamente normale e una delle cose che io ho sempre apprezzato della programmazione è che si possono fare errori di questo tipo cioè errori che ci vengono segnalati immediatamente dal compilatore senza conseguenze senza rovinare materiale prezioso senza sprecare niente tranne che un pochettino di tempo che non è sprecato perché ci serve per imparare alcune cose quindi mi raccomando ricordatevi che gli errori che il compilatore vi segnalerà sono solo occasioni per voi per fare più attenzione o ancora meglio per comprendere delle cose che non avevate capito bene o che avevate dimenticato ora per lanciare il nostro programma stavolta lo lanceremo direttamente dalla linea di comando e daremo un comando per .net build per fare in modo che il nostro programma venga tradotto appunto da codice C sharp a un eseguibile e dopodiché un bel clear solo per ripulire lo schermo e finalmente possiamo dire .net run per lanciare il nostro programma e come vedete mi arriva la richiesta what is your name io mi chiamo Rick e hello world Rick e con questo abbiamo scritto insieme il nostro primo programmino che ci permette di interagire un minimo con il nostro software e averne una risposta spero che sia stato tutto abbastanza chiaro e che la cosa vi abbia incuriosito purtroppo io sono come istruttore in video abbastanza le prime armi vi devo confessare ho molta molta esperienza come istruttore live purtroppo insegnare in video non è assolutamente la stessa cosa potrebbe sembrare molto simile ma in realtà è molto diverso perché non posso vedere le vostre facce non posso vedere nel vostro sguardo se mi state seguendo se qualcosa l'avete già capito molto facilmente se c'è bisogno che io mi ripeta o trovi un altro modo per spiegarvi le cose però c'è il vantaggio che potete riascoltarmi quante volte volete potete andare indietro potete accelerarlo quando sono troppo noioso e vado troppo troppo piano insomma spero che non mi giudicherete troppo severamente per questi i miei primi tentativi di istruzione via video ci vediamo nei prossimi video dove cercheremo di fare qualcosa di un pochettino più un pochettino più allegro un pochettino più vivace per esempio cosa direste di un bel classico FizzBuzz